Va ora in onda, Radio Speranza Notizie. A cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in blu. La radio della chiesa metropolitana di Pescara Penne che trasmette sugli 87,6 MHz e sul nostro sito web www.radiosperanzapescara.it ma è presente anche su Facebook con la pagina Radio Speranza. Un imprenditore marsicano è morto finendo con il suo trattore in un canale del Fucino a Pescina in provincia dell'Aquila mentre caricava dell'acqua per irrigare. La vittima è un 58enne titolare di un distributore di benzina e di autolavaggio. Dai primi accertamenti il trattore si è ribaltato cadendo in acqua, non si sa ancora se per un guasto. Non è stato raggiunto nessun accordo nella sede dell'assessorato al lavoro della provincia di Pescara. Durante l'incontro convocato dall'assessore Antonio Martorelle sulla richiesta della società Solvay Chimica di Bussi sul Tirino per avviare la procedura di cassa integrazione straordinaria per cessazione attività per 22 lavoratori di due specifiche linee di produzione. Quella degli impianti silicati e quella chimica fine. Nuovo incontro il prossimo 22 giugno. Protesta dinanzi alla regione Abruzzo in Viale Bovio a Pescara delle operaie della ex Golden Lady di Gissi che ieri dopo la riconversione della Silda S.P.A. di Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo hanno appunto deciso per la protesta. Potrebbero infatti andare in mobilità le operaie ad un anno dalla riconversione, dice il segretario della FICTEM CGL Giuseppe Rucci. Ci troviamo con una società che non riesce a garantire il pagamento delle aspettanze minime al netto della cassa integrazione in essere e non c'è stato dato un piano industriale. Parliamo ora di sicurezza. A Pescara è ripartito per il secondo anno consecutivo il servizio del trenino del mare per trasportare bagnanti sulla spiaggia. Il mezzo che potrà ospitare fino a 87 passeggeri è operativo il giovedì e il venerdì sul litorale nord e il sabato e la domenica su quello sud alternandosi al classico busnavetta. Esclosivamente per il trenino gli adulti pagano un euro per il trasporto mentre i minori viaggeranno gratis. Il busnavetta è gratis per tutti. A Pescara ultimo giorno utile oggi per partecipare alla gara per il maxi appalto da 3.334.000 euro per l'affidamento del servizio di vigilanza armata fissa diurna e notturna del palazzo di giustizia del capoluogo adriatico. Il bando, che si è ufficialmente aperto lo scorso 29 marzo, era stato congelato dopo aver ricevuto alcune osservazioni dalle imprese. E scade oggi il bando indetto dal comune di Pescara per la ricerca di un'associazione cui affidare la gestione del parco, Andersen, struttura verde di via Salara, vecchia, agliacente alla scuola elementare completamente riqualificata. Una struttura che, conclusi i lavori, abbiamo lasciato chiusa, commenta l'assessore ai lavori pubblici del Trecco, in attesa di riindividuare la formula più adeguata di conduzione per evitare che nuovi atti di vandalismo vadano a deturpare quello che è patrimonio di tutti. Partiranno oggi le celebrazioni per la parrocchia di San Gabriele della Dolorata, Pescara, organizzate da Don Valentino Iezzi. La maggior parte di queste celebrazioni si svolgerà in piazza San Gabriele della Dolorata. Si apriranno anche le celebrazioni per la parrocchia della Beata Vergine Maria del Fuoco, strade chiuse dalla parrocchia della Beata Vergine Maria del Fuoco, via Sacco, via Lago di Borgiano, via Lago di Capestrano, via Stradonetto, via Raiale, strada vicinale Torretta, via Lago di Chiusi, via del Nuovo Tiro al Segno, via Stradonetto, via Sacco, con arrivo presso il piazzale antistante e la chiesa di via Sacco per la gara sportiva prevista in questa occasione. La chiusura scatterà intorno alle ore 19 di oggi. E Piazza della Rinascita, ovvero Piazza Salotto a Pescara, chiude al traffico pedonale, ciclo pedonale, per quattro giorni, da domani sino al 15 luglio, per consentire l'allestimento degli impianti necessari per svolgere la serata finale del quarantesimo premio internazionale flaiano, quando Pescara ospiterà dei nomi di eccezione dello spettacolo, della letteratura e della cultura in genere, che verranno accolti su un red carpet, una vera e propria passerella di livello internazionale, come si conviene ad appuntamenti di tale rilevanza, fa sapere il comune. Il terzo festival del cinema è stato ideato per far conoscere il territorio regionale abruzzese, con le numerose produzioni cinematografiche che hanno avuto l'Abruzzo per sfondo. L'evento si svolgerà in forma itinerante nel Parco regionale del Verino, Sirente, durante i prossimi tre weekend estivi, ospitato rispettivamente dai comuni di Fontecchio, il 13 e 14 luglio, Castelvecchio-Subequo, il 20 e 21 luglio, e Rocca di Mezzo, il 3 e 4 agosto. Si svolgerà questa sera la ventitresima edizione della Marcia della Carità, organizzata dall'Unitalsi dei Religiosi Camigliani, dal Comitato Festa 2013 e dal Comune di Bucchianico. Il programma prevede alle ore 19 la Santa Messa Solenne, che sarà celebrata presso la Chiesa Cattedrale di San Giustino in Chieti, alle 20 l'inizio della Marcia da Piazza San Giustino in Chieti, alle 23.30 circa l'arrivo in Piazza San Camillo dell'Ellis, già Piazza Roma, e la benedizione con la reliquia di San Camillo. Per il ritorno a Chieti saranno a disposizione dei pullman. Per l'occasione la reliquia del cuore di San Camillo dell'Ellis, giunto da Roma il 6 luglio, resterà nel santuario di Bucchianico fino al 21 luglio. Pescara chiama Rio, così si intitola l'evento diocesano che l'Ufficio di Pastorale Giovanile dell'Arcidiocesi di Pescara Penne sta organizzando per vivere la GMG a livello diocesano con l'Arcivescovo di Pescara Penne e Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti a Città Sant'Angelo il 27 e 28 luglio. Per informazioni si può visitare il sito www.diocesipescara.it ripetiamo www.diocesipescara.it Martedì 16 luglio presso il monastero di Santa Maria del Monte Carmelo in via Monte Carmelo 85 a Pescara sarà vissuta la solennità di Santa Maria del Monte Carmelo alle ore 8.30 la Santa Messa alle 18 la recita dei Vespri e quella del Santo Rosario alle ore 19 la Santa Messa solenne presieduta dalla Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti Arcivescovo di Pescara Penne il triduo di preparazione si svolgerà il 13, 14 e 15 luglio a partire dalle ore 18 con la recita dei Vespri quella del Santo Rosario e la celebrazione della Santa Messa sabato 20 luglio presso il convento di San Giovanni della Croce in via Tirino 154 a Pescara a partire dalle ore 17 si terranno la recita del Santo Rosario quella dei Vespri e la celebrazione della Santa Messa con il rito per la rinnovazione dell'affidamento a Maria degli affiliati allo scapolare e vestizioni il triduo di preparazione si svolgerà il 17, 18, 19 luglio a partire dalle ore 17 con la recita dei Vespri e del Santo Rosario e la celebrazione della Santa Messa tema lo scapolare segno di appartenenza e oggi la direzione, la redazione, la regia e i collaboratori tutti di Radio Speranza augurano buon compleanno al diacono Alfonso Genovese siamo con questo alle previsioni del tempo oggi su Pescara e Provincia si prevedono nubi sparse al mattino e nel primo pomeriggio piogge schiarite nel tardo pomeriggio e cielo poco nuvoloso in serata con temperature da 23 a 29 gradi e venti da deboli a moderati il mare è previsto poco mosso era l'ultima notizia per quanto riguarda quest'edizione del nostro notiziario da Massimiliano Spiriticchio al microfono una tascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in blu la radio della chiesa metropolitana di Pescara Penne che trasmette sugli 87,6 MHz è sul nostro sito web www.radiosperanzapescara.it ma è presente anche su Facebook con la pagina Radio Speranza grazie per essere stati con noi e a risentirci abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica construction Grazie a tutti Grazie 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 a tutti.